Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, io sono ancora in mood natalizio come potete ben vedere e niente, buon Natale, buon Santo Stefano a tutti, anche se è già finito Santo Stefano, ma chi se ne frega è sempre festa, ormai fino al 6 gennaio è festa, quindi buone feste a tutti e niente, volevo approfittarne anche per farvi gli auguri di fine anno perché i prossimi video che pubblicherò saranno video in cui non parlerò e quindi ne approfitto per farvi gli auguri di una buona conclusione dell'anno e un buon inizio 2022 e un buon anno 2022 che sia un anno migliore per tutti, pieno di serenità, di gioia, momenti belli, indimenticabili che sia un anno migliore ragazzi, ce l'auguriamo, che finisca presto questo incubo che stiamo vivendo ormai da due anni e volevo parlarvi delle novità, delle novità del prossimo anno, cioè in particolare una novità che avevo in mente di iniziare però ho detto vabbè siamo ormai alla fine dell'anno è meglio che aspetti l'inizio del 2022 per iniziare questa nuova rubrica, ovvero quella di parlare più approfonditamente delle mie canzoni. Scusate ragazzi non so per quale strano motivo si sia interrotta la registrazione però vabbè lasciamo perdere. Stavo parlando della nuova rubrica, i video al riguardo, se farò un video di questa rubrica verrà pubblicato il lunedì, il lunedì è il giorno di quella rubrica lì. Ovviamente non pubblicherò sempre probabilmente riguardo a quell'argomento in particolare. Poi vabbè il mercoledì rimane sempre la giornata delle cover il venerdì è il giorno del video, della lettura dei commenti. Niente, questa è la programmazione classica e poi vi ricordo anche che comunque durante la settimana, magari il martedì o il giovedì, non lo so potranno uscire degli shorts, quindi attivate la campanella se non l'avete ancora fatto ragazzi così almeno rimarrete sempre aggiornati su nuovi video. Poi ovviamente nel 2022 avrete modo di ascoltare nuovi brani miei al 100%, questo ve lo posso assicurare, non vi dico niente al riguardo. Quindi preparatevi e speriamo che sarà un anno anche di cambiamenti, cambiamenti in positivo. Niente, io vi mando un fortissimo abbraccio, un bacione e vi auguro un felice 2022 ragazzi. Ciao. Niente ragazzi, ha deciso anche di tagliarmi il saluto. Ciao. Buon 2022, auguri! Ciao. 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 Ciao.